Buonasera, mi chiamo Manetto Leonardo. Praticamente nel 2017 mi ha chiamato a casa un giudice con un interprete da Londra dicendo che mi avevano levato la paterprotestà. Da allora io non vedo più i miei bambini, ormai sono tre anni che non vedo più i miei figli. In realtà me li hanno fatti vedere tramite dei centri di contatto spendendo quasi 800 mille pound per sessione, perché capite devo andare in Inghilterra all'aeroplano, poi pagare il centro di contatto. Io per un po' sono andato, poi non ce l'ho più fatta con questa situazione e ho dovuto smettere un anno erotti di vedere i miei bambini. Ora li sento solo mezz'ora alla settimana. Il bello è che la motivazione per cui mi hanno levato i figli è una enorme manica di bugie dette da mia moglie e dei miei figli, perché cosa se ne facevano di un papà che andava a Londra che gli diceva pulite, pulite casa, studiate, niente. Quindi hanno ben pensato di mettersi d'accordo e farmi pedalare. Ma la cosa più assurda è che quando io ho portato tutte le prove della mia innocenza totale alla corte d'Inghilterra, il giudice mi ha detto io non ho nessuna intenzione di leggere 50 anni della sua vita. Ma di che cosa l'accusavano? Avevo molestato mentalmente mia figlia e che avevo dato un pugno a mia moglie. Il fatto che non è vero, perché io ho smentito sia mia figlia con le prove, sia mia moglie con le prove, ma le prove non sono state accettate dal giudice apposta per potermi levare i figli. Non ho potuto fare appello perché nelle udienze gli avvocati inglesi costano un botto di soldi. Ho fatto l'acedu, l'acedu mi ha detto ah non te la prendiamo in considerazione perché non hai fatto l'appello e quindi mi sono ritrovato senza figlia a dover accettare un'assistenza. Ma nel mentre, che io ero un po' stordito perché sapete ti levano i figli e non è che sei tutto lucido. Nella mia storditaggine ho iniziato a vedere delle cose che non andavano. Cioè un poliziotto inglese, un ispettore di polizia si chiama Paul Ridley, è lui che fa le varie figli e come lo fa? Stila dei rapporti segreti che vanno agli assistenti sociali che a me non dovevano arrivare. Stila dei rapporti segreti e cosa succede? Che per sbaglio mi è arrivato questo rapporto dove questo ispettore dichiarava che io ero altamente pericoloso per la mia famiglia, che la mia famiglia era a rischio della vita, questo qua non mi aveva né mai visto né conosciuto né sentito. Cioè si è inventato tutto al che io l'ho denunciato, sono due anni che continuo a denunciarlo e due anni che continuo a dire noi non indaghiamo, noi non indaghiamo. L'ha denunciato dove? Dove l'ha denunciato? Alla polizia, ho denunciato per corruzione tutta la polizia inglese, i signori e il signor Ridley, quattro giudici per collusione il sindaco di Londra non indagano, non gliene frega niente perché loro non vogliono indagare, perché se indagano io vinco e poi mi devono pagare pesantemente i danni, quindi non hanno interesse a indagare. Adesso io ho delle news che te ne parlerò poi, prima ne devo parlare con l'avvocato perché questa gente qua è pericolosa e quindi ho intenzione di denunciarli da qua perché tu non puoi andare a dire in giro che io sono un delinquente perché la voce è arrivata qui a Torino e la gente mi dice così così e io adesso voglio denunciarlo per non diffamazione ma per l'altro reato che non mi ricordo mai come si dice, non è diffamazione ma è un altro reato, sempre come la diffamazione, diffamazione ma non me lo ricordo, scusate. Comunque lo denuncio e cercherò di portarli in causa io da qua perché così poi questa storia esce fuori. Che cosa vuoi ottenere? Io voglio ottenere giustizia, voglio che il giudice, l'assistente sociale e mia moglie paghino per le bugie, il rispettore paghino per le bugie dette perché non si può diffamare una persona così. Io non mi sono sparato o impiccato perché sono un uomo forte ma c'era da impiccarsi perché io dall'oggi al domani la sera prima mia moglie mi scriveva Mariccio, Mariccio ti amo, domani viene a Londra, il giorno dopo mi chiama la polizia inglese e mi dice non venire più col tribunale, non venire più perché sennò ti arrestiamo perché lì hanno signori una legge che si chiama non molestian order, non molestian order sapete cosa vuol dire? Che chiunque può andare alla polizia a denunciarti e dire lui mi ha picchiato, anche se non è vero ti arrestano, questa è la legge inglese i bambini? Io chiedevo che cosa voglio ottenere, vedere i bambini, risarci menti? No, voglio i bambini, non voglio niente, io voglio solo tutti i soldi che mi hanno derubato tra avvocati perché anche lì ce ne sarebbe da dire tra avvocati, tribunale, cause, trasferte e tutto quanto, li voglio i miei soldi e li voglio i miei bambini perché è giusto che io li riappi indietro. Ok, Leonardo, allora siccome stiamo andando un po' lunghi, tanto torneremo su queste cose perché ho tante cose da chiederti ancora. Adesso chiudiamo questa prima puntata, interrompiamo qui la registrazione e poi già diciamo che questa è la prima puntata. Sì, va bene, ci saranno sviluppi più pesanti perché ti devo raccontare poi dopo che ho parlato con l'avvocato del resto. D'accordo, d'accordo, grazie Leonardo. Allora interrompiamola, ecco. Grazie. 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 Grazie.